Si susseguono gli ospiti ai nostri studi di Ante stamane e giustamente chiudiamo col botto perché dopo aver parlato di tanti eventi Marche Abruzzo chiudiamo con un altro evento importante che ce lo presenta direttamente il Presidente della Provincia Piero Celani Buongiorno Presidente, grazie per questa visita. Sappiamo che tu ci tieni tanto a questa tua creatura, ma un po' della provincia che fate questo evento da tanti anni il venerdì 8 agosto presso il porticciolo turistico di San Bernetto Ecco, quest'anno dacci le indicazioni in che consiste questo evento? Quest'anno rendiamo protagonista il territorio, facciamo parlare il territorio viceno noi a partire dal 2010 abbiamo fatto un progetto molto importante per la nostra provincia perché volevamo in qualche modo mostrare attraverso il binomio cultura-turismo insomma quelle che erano le eccellenze, gli asset peculiari del nostro territorio proprio da una platea vastissima che è quella naturalmente degli ospiti che passano le vacanze nella bellissima rivela delle palme, fra cui parola intima in San Benedetto quindi siamo partiti nel 2010 con una rappresentazione eccezionale in forma scenica di Carmina Burana, poi abbiamo fatto lirica importanti diciamo eventi tipo Tosca, tipo Nabucco, quest'anno invece che cosa vogliamo fare? Vogliamo far raccontare se stesso insomma il territorio partendo dalla Sibilla fino ad arrivare al mare, è come se il Trondo che unisce in pratica questo territorio esatto, esatto il Trondo nasce dai Sibillini nel Reatino, insomma vicino ad Amatrice scorre poi lungo la valle e quindi ovviamente negli anni, nei secoli ha visto le trasformazioni del territorio, ha visto chiaramente la storia ha visto chiaramente trasformarsi in costume, ha visto la trasformazione industriale della valle del Trondo, da una valle prettamente agricola a una valle prettamente industriale ha visto la trasformazione del porto di San Benedetto con tutta la cultura marinaria quindi noi facciamo parlare, è come se il Trondo si raccontasse esatto e quindi naturalmente ci dicesse come è cambiata chiaramente la storia attraverso appunto danze, teatro, attraverso balli, attraverso la presenza di acrobati naturalmente attraverso la recitazione di bellissime poesie in vernacolo chiaramente di Ascolano e San Benedettese quindi con personaggi del territorio con personaggi tutto il territorio quindi una produzione tutta del territorio fatta chiaramente dal territorio viceno quindi da attori che vengono da Ascoli, da San Benedetto, da Montaldo, da Acquaviva e quant'altro quindi voglio dire un purpurì di eccellenze tutte picene quindi non soltanto eccellenze che dobbiamo mettere in vitrina ma anche eccellenze chiaramente che mostrano questa vitrina quindi secondo me è uno spettacolo da vedere abbiamo naturalmente messo a disposizione 1800 invidi devo dire che ad oggi già 1600 sono andati via quindi vanno a ruba e ci auguriamo che se il tempo ovviamente volgerà il bello come ci si augura insomma questa stagione veramente pazza sarà una serata da non perdere che io raccomando a tutti ecco una domanda che non c'entra ne nulla ma giustamente tu sei un addetto ai lavori da presidente l'avrei vista da di fuori questa diatriba tra San Benedetto e Ascoli per questo Espo 2000 tra le olive e le amici di San Benedetto ma io credo che dovevano essere valorizzate entrambi perché francamente l'una non esclude assolutamente l'altra insomma non esclude assolutamente l'altra per cui il pesce anghio insomma il pesce azzurro è veramente si sta rivelutando in modo forte l'oliva scolana insomma ormai è un'eccellenza è quella che la caratterizza è un'eccellenza ormai non soltanto del territorio è un'eccellenza probabilmente marchigiana e oltre ovviamente quindi si doveva e si dovrà trovare la sintesi per portare entrambi i prodotti per rappresentare il territorio piceno non è più epoca dei campanili insomma scordiamoci perché se vogliamo ottenere qualcosa dobbiamo essere uniti e quindi dobbiamo mettere in mostra il meglio che abbiamo e questi prodotti sono francamente il meglio di quello che abbiamo lo dimostrano poi le due manifestazioni perché frittomista l'italiana ad Ascoli è qualcosa di incredibile che è cresciuto 40-50 mila presenze anche oggi nel giro di tre anni è esplosa quindi perché non utilizzare questi eventi come per i promozionali mi sembra sciocco beccarsi poi ovviamente se c'è un po' di dialettica politica quella ci può pure stare serve anche secondo me per svegliare la regione questa cosa insomma no questa un po' piccola polemica fra San Benetto e Ascoli su questi due prodotti insomma ha fatto sì che la regione prendesse coscienza di quanti valori di quanti asset noi abbiamo che possiamo valorizzare e di cui loro devono farsi naturalmente diciamo carico la proposta della regione d'accordissimo con te presidente quindi ti ringrazio per questa presenza anche per questa ultima battuta che non fa non fa male bisogna anche essere realisti giustamente hai detto bene tu qui bisogna portare avanti il territorio non più i campanini qui noi dobbiamo vendere il prodotto territorio i campanini non esistono il prodotto territorio il prodotto territorio è fatto chiaramente di tante eccellenze quelle due che parlavamo prima sono eccellenze allora mettiamo un insieme anche perché e tu mi insegni che da soli non si va da nessuna parte no assolutamente è finita l'epoca di una mosola a comando è finita proprio è finita insomma qui bisogna fare rete altrimenti non si va da nessuna parte grazie Piero in bocca al lupo per l'evento di venerdì ma anche di quello che fai quotidianamente grazie a risentirci alla prossima a risentirci buona giornata grazie